Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 in direzione nord, rallentamenti e code a tratti per traffico tra Monte San Savino e Firenze Sud, tra Firenze e Ampronete a BV1 11, tra Calenzano e BV1 Variante, in carreggiato opposta rallentamenti per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi e BV1 Variante. Uno sguardo al traffico ferroviario all'Eurostar Frecciarossa 94-35, Venezia-Santa Lucia-Roma Termini sta viaggiando con 21 minuti di ritardo. Il transito a Firenze-Santa Manenovella al momento previsto alle 16.51, salvo recupero. Ricordiamo inoltre che fino al 30 giugno la circolazione dei treni è sospesa tra Lucca e Viareggio per consentire lavori di manutenzione della galleria Ceracci. I treni sono sostituiti con autobus non-stop o confermate intermedia Massarosa e Nozzano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, una città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!